un buone per Collin lascia partire il cross di testa allontanato in qualche modo una difesa dell'azzurra di nuovo però il Caratasaray ci prova Arta sul castocco per Sabri zona tiro carica il testo Castellazzi in due tempi la fa sua oggi in squadra è stato toccato anche il portiere della primavera Bardi qui l'uscita da parte di Castellazzi che Otto viene in qualche modo colpito attenzione è caduto male Castellazzi resta a terra avete visto? ha battuto la testa con un movimento innatorale ancora a terra preoccupati i giocatori dell'Inter intorno speriamo davvero non sia nulla di di grave di immediata la sostituzione meglio non scherzare meglio non rischiare a Jan a tocco morbido dall'altra parte Wifanouche accompagna sempre l'azione mette dentro rovesciata Orlandoni sul tentativo di Arda Passneider col destro la risposta di Aikut il cross di Sabri il suo lungo cross e qui è bravo Castellazzi anzi Orlandoni scusate sul colpo di testa di Servette la passione di Snider funziona palla per Castagnos possibilità per lui la gaccia male non è finita però Castagnos può tenerla il sugelimento è dietro per Smole Eto' Eto' limite Eto' il palo clamoroso di Eto' Eto' il palo clamoroso colpo di testa e direzione sul tentativo del capitano fa per mettere fuori causa il potere Orlandoni e allora